Musica Abbiamo fatto tante iniziative in questi ultimi mesi, noi siamo nati in realtà poco più di un anno fa e fra queste iniziative ce ne sono veramente tante, alcune realizzate con delle aziende, altre realizzate con delle istituzioni e se vi dovessi dire qual è la manifestazione che ad oggi ha riscosso più successo che è rimasta maggiormente nel cuore vi direi senza dubbio Vita Comune che è un progetto realizzato in occasione di fotografia europea a Reggio Emilia in cui abbiamo fatto una mostra cosiddetta democratica, ovvero abbiamo installato su sei maxi schermi le foto che venivano scattate in tempo reale dagli utenti Musica